È giunto il momento di iniziare a creare i primi contenuti, ossia le prime pagine del nostro sito e iniziamo dalla home page. Questa lezione è fondamentale all'interno del corso, quindi ti consiglio di guardarla con molta attenzione e probabilmente dovrai anche rivederla più volte, perché affronteremo alcuni aspetti che saranno utilissimi per la creazione non solo dell'home page, ma di tutte le pagine del sito e soprattutto concetti che potrai utilizzare in molti strumenti diversi che possono essere utilizzati su WordPress. Faccio anche una premessa, su WordPress devi sposare in toto il concetto di flessibilità. Cosa intendo? Intendo che su WordPress quando si tratta di creare una pagina, un menu, un qualunque altro elemento visibile su una pagina web, esistono decine di modi diversi per fare le stesse cose. La home page, ad esempio, ti mostrerò alcuni metodi, non sono gli unici, ce ne sono decine di altri e soprattutto in base al tema utilizzato, in base agli strumenti che utilizzi, esistono strade diverse per arrivare alla stessa o più o meno la stessa destinazione. Iniziamo vedendo come è possibile creare una pagina utilizzando gli strumenti nativi di WordPress, quello che viene definito anche l'editor a blocchi Gutenberg di WordPress. In questo caso ci troviamo sull'home page ed è bene tenere presente che quando lavori e vai a creare pagina in un sito WordPress sapere sempre la differenza tra cosa è gestito dal tema e cosa invece è il contenuto della pagina. In questo caso, ad esempio, abbiamo già visto che dopo aver creato la testata del nostro sito e il footer del nostro sito abbiamo ben chiaro che questa sezione in basso sia il footer è gestito dal tema del sito. Stessa cosa per la testata. Quando noi invece andiamo a creare una pagina, lavoriamo su quest'area che in questo caso è con lo sfondo bianco e questa è gestita con l'editor di WordPress. Quindi andiamo a creare il contenuto e quindi andiamo a gestire questa sezione. Entriamo quindi qua in modifica pagina e come vedi qua trovi il titolo e anche le due righe di testo che erano visibili anche in home page. Supponiamo ad esempio di continuare e aggiungere altro testo in questa pagina. Inserisco altro testo. Eventualmente qua può inserire anche un'immagine. Quindi andiamo da qua, aggiungiamo spazio e qui in alto aggiungiamo un blocco. Quindi cliccando questa icona con il più può aggiungere un blocco e tra i blocchi disponibili nell'editor di WordPress ce n'è anche uno dedicato alle immagini. Ti faccio presente che nel corso Creare contenuti su WordPress al quale hai accesso è spiegato passo passo come utilizzare l'editor Gutenberg, l'editor a blocchi di WordPress. Quindi ora queste cose te le faccio vedere magari anche un po' velocemente però c'è tutto un corso dedicato a come utilizzare questo strumento. Qua posso scegliere di o caricare un'immagine dal mio computer o pescarne una dalla libreria media. Tra quelle che ad esempio ho caricato prima. Scegliamo ad esempio questa, faccio seleziona e inserisco qua l'immagine. Posso anche creare altri contenuti come ad esempio posso aggiungere qua un blocco vediamo, vediamo, un blocco copertina e anche in questo caso posso scegliere un'immagine e scrivere anche un testo. Non è importante il contenuto che inserisco adesso perché ora ti voglio mostrare un po' un esempio di come viene costruita una pagina. Clicco aggiorna e qua vado a vedere l'anteprima. Quindi clicco anteprima scelgo anteprima in una nuova scheda. In questo modo vedo l'anteprima della mia home page. Vedo che qua effettivamente compare il testo aggiunto, l'immagine che ho inserito e anche la copertina. Volendo posso effettuare anche alcuni interventi. Ad esempio se io torno qua nella pagina di modifica questa copertina posso impostarla in modo che sia visualizzata tutta la larghezza. Quindi da qua nel blocco copertina scelgo questa icona e scelgo larghezza piena. Vedi che qua nell'editor compare a tutta la larghezza. Se io infatti clicco aggiorna e vado a vedere la pagina anche qua è a tutta la larghezza. Quindi diciamo che l'editor standard di WordPress mi offre qualche funzionalità di personalizzazione. Man mano vado avanti però con l'editor di WordPress mi rendo subito conto che presenta alcuni limiti che mi impediscono di effettuare interventi più o meno radicali su questa pagina. Quindi quando voglio creare layout, impostazioni grafiche un pochino più personalizzate faccio un po' di fatica. Ad esempio ti mostro una situazione. Se io qua volessi in alto aggiungere un blocco a due colonne vado qua, clicco più, scelgo il blocco colonne scelgo il blocco a due colonne e vedi che ho a disposizione due spazi uno sulla sinistra e uno sulla destra per inserire contenuti affiancati. E qua clicco, inserisco ad esempio un titolo e qua sotto inserisco un paragrafo. Supponiamo che qua il titolo lo voglia allineare al centro e anche il paragrafo lo voglia allineare al centro. Magari qua a destra voglio inserire un'immagine quindi clicco più, scelgo immagine e vado a caricare dal mio computer un'immagine che voglio inserire lì in alto nella parte alta della mia home page. E clicco carica e qua sul mio computer vado a pescare un'immagine che voglio inserire qua in alto. come ad esempio questa. Clicco su aggiorna e vado a rivedere l'anteprima. Vedi che ora nell'home page il contenuto che ho inserito è effettivamente visibile. La prima cosa che noto è che mi piacerebbe che questo blocco titolo e testo fosse allineato in verticale con l'immagine che vuol dire che adesso l'immagine sembra più bassa rispetto a questi contenuti. Quindi torno qua mi posiziono qua su questo blocco e seleziono la gestione di tutto il blocco colonne. Quindi da qua clicco qua in basso su questo link colonne in modo da selezionare il blocco delle due colonne. Qui in alto nella barra degli strumenti vedi che c'è una funzione che mi permette di cambiare l'allineamento verticale. Quindi io posso cliccare qua allinea verticalmente al centro mi permette di allineare i contenuti all'interno delle due colonne in modo che siano allineati al centro. Infatti se io ora clicco aggiorna e vado a vedere l'anteprima ora i contenuti sono allineati. Vediamo altri possibili interventi. Se io volessi aumentare o ridurre lo spazio tra questo titolo e questo paragrafo purtroppo l'editor di WordPress non mi consente di farlo. Perché se io vado qua clicco su questo titolo cliccando su quest'icona dell'ingrenaggio vado a vedere le impostazioni che ho a disposizione per ogni blocco in questo caso il blocco titolo. Vedi che io qua posso scegliere la dimensione quindi posso aumentare o ridurre la dimensione di questo testo torniamo qua a quello predefinito posso variare il colore vedi che ho a disposizione tante impostazioni se clicco pulisci torno a quello standard ma non ho nessuna funzione che mi permette di aumentare o diminuire lo spazio o meglio per aumentarlo una soluzione ci sarebbe io posso cliccare il più e aggiungere un blocco tra il titolo e il paragrafo un blocco come ad esempio quello che si chiama spazio vuoto questo blocco mi consente di aggiungere uno spazio che va da 1 a 500 pixel volendo anche di più di spazio tra questi due elementi potrebbe essere una soluzione non è la più intelligente però potrebbe essere una soluzione purtroppo però non ho un metodo per ridurre questo spazio quindi se io volessi che quel paragrafo fosse molto appiccicato al titolo in questo caso non posso dovrei intervenire sul codice creando regole personalizzate ma sarebbe qualcosa di molto complesso soprattutto se si ha le prime armi con la creazione di siti su WordPress quindi adesso togliamo questo spazio vuoto e al momento ignoriamo questa esigenza e vediamo cos'altro possiamo fare supponiamo che tu voglia inserire uno sfondo colorato o uno sfondo immagine sotto questo blocco queste due colonne quindi riselezioniamo il blocco colonne andiamo qua perché vedi che quando tu clicchi su un blocco qua in basso varia la presentazione dei contenuti quindi adesso ti dice documento, colonne, colonna, paragrafo questa sorta di menu questa sorta di percorso ti va a indicare che tu adesso sei nel paragrafo che è contenuto in una colonna che è contenuto in colonne che è contenuto nel documento se clicco su immagine vedi che mi dice che ho selezionato l'immagine che è presente nella colonna che è presente nelle colonne che è presente nel documento una cosa di questo tipo sia un percorso di questo tipo io lo posso visualizzare anche cliccando qua in alto questa icona qua vedi che ti dà la modalità elenco che ti dice tutti i blocchi che hai inserito in questo elemento blocco colonne che contiene una colonna e una seconda colonna nella prima è contenuto il titolo e il paragrafo nella seconda l'immagine a me basta cliccare uno di questi blocchi per andare a selezionarlo perché perché il blocco immagine ha alcune impostazioni il blocco paragrafo ne ha altre il blocco colonna ne ha altre e così via quindi quando devo fare un intervento è importante capire se devo andare a modificare il singolo oggetto se la colonna oppure altri tipi di elementi in questo caso io vado a selezionare il blocco colonna vado in impostazioni colore e vedi che il blocco colonna ha a disposizione la possibilità di scegliere un colore quindi vedi che qua puoi ad esempio impostare questo sfondo grigio chiaro volendo puoi anche cliccare colore personalizzato e scegliere un colore che vuoi ti ricordo che come abbiamo visto nel video sull'impostazione della tavolozza colori per tutto il sito è meglio ed è consigliabile utilizzare la tavolozza colori questo perché se ogni volta scegli il colore così a mano rischi di scegliere ogni volta sfumature diverse di quello che sembra lo stesso colore ma in realtà non è e così facendo a lungo andare il sito perde di uniformità perché ti troveresti con 20 sfumature diverse di viola o di fucsia o di giallo e così via quindi è importante utilizzare e definire una tavolozza colori piuttosto vai ad aggiungere altri colori alla tua tavolozza però ogni volta che inserisci quel viola è esattamente quel tipo di colore quando utilizzi il giallo è esattamente quel tipo di giallo torniamo qua all'esempio del grigio e qua possiamo anche scegliere un colore per il testo quindi vedi che cambiando qua cambia il colore anche del testo però cambia quello del testo non del titolo quello va gestito in maniera indipendente ora clicchiamo su pulisci lasciamo solo il colore dello sfondo clicchiamo aggiorna e andiamo a rivedere l'anteprima della nostra home page vedi che ora lo sfondo c'è però qua abbiamo ancora del margine quindi se noi volessimo ad esempio andare a occupare tutta la larghezza della pagina con questo sfondo colorato come possiamo fare torniamo qua sulla modifica della pagina assicuriamoci di aver selezionato il blocco colonne e qua dove c'è quest'icona cambia allineamento la clicchiamo e andiamo su larghezza piena larghezza piena ci consente di estendere quel blocco a tutta larghezza quindi clicco aggiorna vado a rivedere l'anteprima e faccio un refresh della pagina e vedi che ora effettivamente ho il blocco colonne a tutta larghezza quindi così è decisamente molto più carino una cosa che personalmente mi dà fastidio immagino dia fastidio anche a te ora è questo titolo perché adesso questo titolo messo così ha poco senso cioè il fatto che io ho quella testata qua questo chiamiamolo bel contenuto e questo titolo questo titolo ora è un po' in mezzo alle scatole quindi vorrei eliminarlo perché non mi serve qua quindi come posso fare torno qua in modifica pagina e generate press mi offre un'interessante e utilissima funzionalità che è disponibile anche nella versione gratuita di generate press che è quella di poter nascondere il titolo di una pagina se non mi serve per nasconderlo mi basta cliccare qua vedi che quando passo con il mouse sopra il titolo compare l'occhio mi basta cliccarlo qua e lo nascondo oppure posso andare qua nella colonna laterale dove vedo qua cliccando su pagina vedo le impostazioni della pagina e questa è una impostazione è una colonna laterale di default su wordpress quindi non è una cosa particolare del tema ma tutti i siti wordpress hanno una cosa del genere io vado qua in pagina e qua sotto in fondo ho questa sezione chiamata layout che è fornita da generate press potresti anche se non la vedi qua trovarla qua in fondo sotto il contenuto però nella maggior parte dei casi è presente qua nella barra laterale quindi ti ripeto puoi trovarla qua nella barra laterale oppure sotto il contenuto però si chiama comunque layout e nella sezione layout fornita appunto da generate press hai la possibilità di disattivare vari elementi nella versione gratuita puoi disattivare il titolo in quella premium quindi generate press premium quello che stiamo utilizzando adesso è quello che abbiamo attivato puoi anche disattivare tutte queste altre cose che più avanti vedremo in dettaglio cliccando l'icona dell'occhio in alto come abbiamo fatto pochi secondi fa sono andato a disattivare il titolo del contenuto infatti vedi qua che il titolo del contenuto appare cliccato nella sezione disattivi elementi se io ora clicco su aggiorna vado ad aggiornare questa pagina torno a vedere l'anteprima della mia home page faccio un refresh e vedi che il titolo ora è scomparso però vedi che c'è ancora questo bordino bianco perché perché questa pagina è ancora impostata diciamo così come pagina normale di contenuto e nell'impostazione normale del contenuto è presente un margine che separa la testata dal resto del contenuto però non è un problema possiamo liberarci molto facilmente di questo margine in questo modo torniamo qua in modifica pagina e qua sempre nella sezione layout che abbiamo visto poco fa c'è anche una voce chiamata contenitore per il contenuto scegli il tipo di contenitore per il tuo contenuto e in questo menu vedi che al momento è impostato predefinito che è l'impostazione di default se noi da qua scegliamo larghezza piena abbiamo a disposizione tutta l'area di contenuto della pagina per farci quello che vogliamo con l'editor di wordpress o con qualunque altro strumento volendo anche con un page builder come Elementor però l'importante è selezionare qua larghezza piena quando devi fare questo tipo di intervento clicchiamo su aggiorna andiamo qua a rivedere l'anteprima aggiorniamo la pagina e vedi che ora ci siamo liberati anche di quel margine ora abbiamo a disposizione tutta l'area di contenuto per personalizzarla esattamente come vogliamo questo però porta con sé un potenziale problema ossia quello che ora non essendoci più margini vedi che anche tutto il nostro testo è a tutta larghezza e così risulta decisamente illegibile ci sono molte persone che pubblicano siti e pagine in questo modo però è evidente che quando io ho righe lunghe un chilometro e mezzo risultano molto faticose da leggere perché ogni volta che arrivo in fondo la riga devo quasi girare la testa farmi venire il torcicollo per andare a capo e beccare l'attacco della riga successiva quindi è importante ogni volta che hai del testo soprattutto se il testo è molto lungo evitare righe così estese in larghezza torniamo qua nella modifica purtroppo l'editor standard di Wordpress quando lavori così in pagine a tutta larghezza non ha la possibilità di variare la larghezza dei vari contenuti in maniera piuttosto facile quindi non hai la possibilità adesso di definire questi paragrafi in modo che siano un pochino più stretti con contenuti al centro quindi abbiamo già visto che prima il problema di non poter gestire la distanza tra i vari elementi tra il titolo e il paragrafo ora la possibilità di definire la larghezza dei vari paragrafi ci sono già due problematiche che con l'editor di Wordpress standard sono presenti e sono subito tangibili evidenti vediamone un'altra un'altra è quella che ad esempio qua su questo blocco colonne prima abbiamo inserito uno sfondo colorato grigio però se noi volessimo applicare altri tipi di sfondi come ad esempio un'immagine ora siamo un po' limitati perché ad esempio abbiamo potuto inserire qua un'immagine di sfondo con del testo però non è che abbiamo tantissime altre opzioni è quindi necessario ricorrere ad alcuni plugin che permettono di ampliare e anche di molto le possibilità messe a disposizione dall'editor standard di Wordpress uno di questi plugin ed è quello che ti consiglio è creato dallo stesso autore che ha sviluppato che ha creato il tema GeneratePress quindi si sposa perfettamente con GeneratePress ma è utilizzabile anche con altri temi andiamo quindi a installarlo aggiorniamo questa pagina giusto per non perdere quanto fatto torniamo nella bacheca tradizionale andiamo qua in plugin aggiungi nuovo e andiamo a cercare un plugin che si chiama GenerateBlocks ok il plugin è questo che si chiama appunto GenerateBlocks clicca su install adesso e poi su attiva è un plugin che è disponibile gratuitamente ma ne esiste anche una versione a pagamento che amplia le funzionalità la versione gratuita offre comunque già moltissime funzioni e in questo caso utilizzeremo quella clicchiamo su attiva e vediamo che questo plugin ci offre quattro tipi di blocchi nuovi il blocco container il blocco grid il blocco headline e il blocco buttons sembra che offra pochi blocchi perché quattro non sono poi tantissimi il vantaggio però è che questi blocchi rappresentano una sorta di mattoncini che ci permettono di costruire molte altre cose e questi blocchi li puoi utilizzare tranquillamente sia per le pagine sia per gli articoli altro grosso vantaggio è che questo plugin non ti va o comunque va a pesantire pochissimo le pagine quindi non è un page builder che quando lo utilizzi effettivamente va a pesantirti la pagina quindi la pagina può rallentare un po' nel caricamento questo è un plugin molto molto leggero e questo rappresenta sicuramente un vantaggio qua nella sezione laterale del menu generate blocks che è stata attivata da questo plugin quindi la clicchiamo andiamo qua in settings e verifica che si è impostato con external file su css print method quindi è una cosa tecnica diciamo però ti consiglio lasciarla su external file in modo che il foglio di stile generato dal plugin sia creato come file esterno e clicca su salva ora torniamo in pagina e torniamo a modificare la nostra home page quindi andiamo qua e andiamo su home page ora andiamo a creare la struttura a due colonne con sfruttando i blocchi messi a disposizione da questo nuovo plugin quindi per farlo andiamo qua ok scegliamo colonne clicchiamo l'icona di tre pallini e scegliamo inserisci prima attraverso questa funzione andiamo a inserire un blocco sopra quindi prima di quest'altro quindi cliccando qua vedi che qua in alto viene creato un blocco qua scegli più aggiungi blocco e scegliamo container e aggiungiamo il blocco container che è uno dei blocchi messi a disposizione da generate block ora che abbiamo aggiunto il blocco container clicchiamo qua al centro su questo più aggiungi blocco e andiamo ad inserirne un altro quindi in cerca blocco questa volta cerchiamo il blocco grid lo clicchiamo il blocco grid non è nient'altro che un altro nome diciamo del blocco colonne ma con molte più funzionalità rispetto al blocco colonne standard di wordpress in questo caso clicchiamo sempre questo 50-50 ossia due colonne di uguale larghezza ed eccole qua andiamo qua a inserire un blocco titolo però questa volta non utilizziamo il titolo andiamo piuttosto ad utilizzare il blocco chiamato headline headline e qua scriviamo il nostro titolo il testo è diverso da quello che c'è sotto però chi se ne frega adesso è un esempio anche in questo caso lo andiamo a allineare al centro sotto andiamo a creare un altro paragrafo però utilizziamo anche in questo caso un blocco chiamato headline quindi lo stesso utilizzato per il titolo e qua andiamo a inserire un paragrafo come vedi però il font è molto grande per essere un paragrafo è identico al titolo questo perché di default il blocco headline appare come h2 come intestazione di secondo livello ci basta cliccare qua su h2 e scegliere invece p paragraph per renderlo un paragrafo e anche in questo caso andiamo qua e lo lineiamo al centro qua andiamo a inserire un'immagine quindi clicchiamo più quello non è cambiato utilizziamo sempre il blocco immagine andiamo in libreria e andiamo a inserire quell'immagine che abbiamo utilizzato prima seleziona ed eccola qua a prima vista abbiamo creato più o meno la stessa cosa che abbiamo fatto prima e quindi ti stai chiedendo ma che senso ha aver installato il plugin Generity Blocks per creare comunque due colonne aver inserito un titolo un'immagine eccetera eccetera quindi vista così sembra che il nuovo plugin non offra alcun vantaggio in più rispetto a quello vecchio iniziamo quindi a vedere cominciamo ad esempio allineare l'immagine e questi testi in verticale al centro come abbiamo fatto prima quindi come prima selezionavamo tutto il blocco colonna per fare questi interventi in questo caso selezioniamo il blocco grid che ti ricordo in pratica è lo stesso come concetto rispetto al blocco colonna quindi andiamo qua in basso clicchiamo su grid e vedi che selezioni questo qua a lato vedi che selezionando un blocco compare la voce la sezione con tutta l'impostazione relativa a quel blocco e nel caso del blocco grid hai la possibilità di selezionare tutte queste impostazioni tra le quali è presente anche l'allineamento verticale quindi in questo caso da qua selezioniamo center e vedi che le colonne sono allineate al centro iniziamo a vedere alcune modifiche che prima non potevamo fare ad esempio quella di variare la distanza tra il titolo e il paragrafo hai la possibilità di agire sul margine o del paragrafo oppure del titolo quindi puoi ridurre il margine tra il titolo e quello che c'è sotto oppure tra questo paragrafo e quello che c'è sopra agiamo a livello di titolo quindi selezioniamo qua e vedi che qua a destra ora stiamo agendo sul blocco chiamato headline andiamo qua nella sezione chiamata spacing e vedi che puoi gestire il padding il margine la dimensione del bordo e il raggio del bordo non preoccuparti che adesso vedremo in dettaglio tutte queste voci a cosa servono vedi che ad esempio margin che quello è più facile da tradurre è il margine puoi gestire la parte alta la parte destra la parte inferiore la parte sinistra se io vado qua nella parte bassa che è già impostata su 20 vedi che cliccando posso inserire il numero che voglio oppure con le frecce aumentare diminuire vedi che se io lascio 0 ho in pratica 0 pixel di distanza perché qua adesso sto lavorando in termini di pixel come unità di misura la distanza tra il titolo e quello che c'è sotto più aumento vedi che più aumenta ovviamente la distanza prima non avevo disposizione questa possibilità di intervento quindi se io qua metto 0 e vado a vedere prima aggiornare e poi a vedere l'anteprima vedi che qua nella vecchia versione avevo questo spazio in quella nuova se voglio posso ridurre a 0 la distanza tra questi due elementi ma non è l'unica modifica che posso fare ad esempio qua posso rimettere 20 come distanza il nuovo blocco headline rispetto al titolo mi permette anche di definire ad esempio un'icona quindi ho a disposizione tutta una serie di icone che posso applicare a questa intestazione inoltre posso anche a livello di tipografia gestire individualmente il peso di questo font quindi da uno super grassetto a uno super leggero oppure vado con il default che va bene considera che generalmente default significa che è il tema responsabile di quell'aspetto quindi in questo caso default significa che è il tema che stabilisce la dimensione lo stile di quel font è ovvio che se lasci che sia il tema responsabile di questo aspetto basterà modificare il tema in un posto e automaticamente tutti quegli elementi sul sito saranno modificati viceversa se tu vai singolarmente impostare le varie impostazioni anche per modificarle poi dovrà intervenire singolarmente sui singoli elementi posso anche trasformare questo titolo in modo che sia automaticamente tutto maiuscolo tutto minuscolo con le iniziali maiuscole oppure normale normale indica che viene mostrato esattamente come l'ho scritto come l'ho inserito ma non è l'unica modifica che posso fare altro problema che avevo con la versione precedente sia con quella standard di wordpress è che a livello di sfondo di queste colonne a parte impostare un colore pieno o un gradiente non potevo fare molto altro ora invece ho a disposizione anche il blocco chiamato container quindi se io clicco qua in questo in qualunque elemento di queste due colonne e poi qua in basso vado a selezionare il blocco container quindi lo clicco ora posso agire sul blocco container e a livello di blocco container qua a destra posso scendere 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 e andare nella parte colori e impostare un colore di sfondo e fino qua niente di nuovo rispetto a quello che potevo fare prima clicco qua e annullo il colore posso andare qua in background scegliere di usare ad esempio scegliere qua browse selezionare un'immagine e utilizzare un'immagine come sfondo posso anche impostare tramite questa voce un'opacità dello sfondo quindi vedi che posso caricare un'immagine ma renderla anche semitrasparente se non voglio l'immagine vado qua la seleziono e la cancello posso anche cliccare questa voce e scegliere un gradiente qua posso scegliere il primo colore del gradiente ad esempio questo blu scuro e scegliere anche il grado di trasparenza o di opacità in base a come vedo le cose di questo colore quindi così è completamente opaco così è completamente trasparente quindi è come non averlo scelto ad esempio scegliamo un'opacità del 50% scelgo l'altro colore ad esempio questo blu oppure questo grigio e in questo caso lo rendo un pochino più scuro e qua posso scegliere anche la direzione quindi vedi che varia l'orientamento ma non solo ho anche la possibilità sotto la voce shapes di aggiungere cliccando questo pulsante vedi qua una forma sia sopra sia sotto questo contenitore quindi se io ho aggiunto questa e adesso clicco qua sull'icona della chiave inglese posso andare a scegliere se questa formula voglio sotto o sopra rimettiamola sotto posso scegliere il colore quindi supponiamo di scegliere il bianco vedi qua posso scegliere l'altezza vedi che riducendola si riduce l'altezza mettiamola 50 quindi ti consiglio di non esagerare con le altezze perché almeno non hai problemi che si sovrapponga magari dei contenuti e poi puoi scegliere se ribaltarla in orizzontale quindi scegli la posizione che preferisci e qua siamo a posto clicchiamo aggiorna e andiamo a vedere la home page vedi che ora l'aspetto è decisamente più originale rispetto a quello che potevamo fare prima quindi torniamo qua un attimo in modifica pagina e andiamo a eliminare il blocco colonne che abbiamo creato prima quindi clicchiamo qua sul titolo selezioniamo colonne quindi in modo da selezionare tutto il blocco di prima clicchiamo sull'icona dei tre pallini e scegliamo rimuovi blocco in questo caso ci siamo liberati di questo blocco clicchiamo aggiorna e andiamo a vedere la home page una cosa che noto è che qua potremmo variare un pochino o i colori o le dimensioni generali del testo e aggiungere magari anche un pulsante quindi mi rendo conto che anche quest'icona serve a poco quindi vado a modificare anche questo aspetto torno in modifica pagina comincio nel definire il colore qua del container vado qua in background vado a cambiare un po' l'orientamento perché preferisco che là in alto sia un po' più chiaro e qua sia la parte più scura voglio che il titolo quindi clicco sul titolo abbia il colore blu scuro quindi vado qua in colors scelgo che questo testo sia blu scuro e qua a livello di icona clicco clear e rimuovo quest'icona il testo che c'è qua al momento lo reputo troppo lungo quindi vado a togliere un po' di testo e qua sotto voglio aggiungere un pulsante quindi clicco più scelgo buttons perché pulsanti è quello standard di wordpress buttons è quello creato dal plugin generative blocks che offre molte più funzioni quindi scelgo questo e qua scrivo scopri di più qua a destra nelle impostazioni del pulsante posso definire alcuni aspetti come ad esempio il colore del pulsante che voglio che abbia lo sfondo blu scuro anzi voglio che abbia lo sfondo giallo il testo blu scuro e il bordo blu scuro a livello di spaziatura vado ad aggiungere un bordo quindi scelgo un bordo vedi che cliccando queste voci puoi scegliere la dimensione del bordo sopra a destra sotto e a sinistra se però clicco quest'icona mi permette di impostare la stessa unità di misura su tutti e quattro i lati in questo caso scelgo due pixel come bordo e volendo posso anche anche qua attivare la sincronizzazione dei quattro lati e applicare anche un raggio al pulsante vedi che più alzo il numero in pixel più il bordo diventa arrotondato quando il bordo al radius è impostato a zero il bordo è perfettamente squadrato volendo posso anche decidere il colore che il pulsante deve assumere quando ci passo sopra con il mouse il cosiddetto mouse over quindi torno qua in colori e vedi che oltre all'impostazione normal ho anche quella over se io vado qua posso fare in modo che quando ci passo sopra col mouse il pulsante sia blu scuro il testo bianco e il bordo bianco perfetto ora se voglio se voglio allineare al centro il pulsante esattamente come il titolo e il testo posso farlo basta cliccare qua al pulsante e qua in basso scegliere buttons perché vedi che il pulsante è contenuto nel blocco buttons se io sceglio il blocco buttons ho la possibilità di scegliere l'allineamento al centro in questo caso è tutto perfettamente centrato clicco su aggiorna vado a vedere l'anteprima aggiorno e vedi che funziona perfettamente andiamo avanti e proseguiamo con i lavori di realizzazione di questa home page quindi torniamo qua prima di inserire altri contenuti un'altra modifica che voglio fare è mostrare il testo di questo pulsante tutto in maiuscolo quindi seleziono il pulsante vado qua in typography nelle impostazioni del blocco pulsante e scelgo sotto transform uppercase così vedi che il pulsante è tutto in maiuscolo ora volendo aggiungere altri contenuti come prima cosa andiamo a ripulire un po' quello che abbiamo inserito prima come esempio quindi tutti questi contenuti andiamo a toglierceli dalle scatole quindi selezioniamo tutto quindi tengo premuto il mouse e continuo a scrollare in basso in modo a selezionare tutti questi blocchi ecco qua una volta che sono tutti selezionati da qua questa barra degli strumenti clicco il pulsante con i tre pallini e scelgo rimuovi blocchi vedi che li ho rimossi tutti tranne questi che mi sono sfuggiti un attimo quindi li vado a riselezionare riclicco qua ho eliminato anche questi ipotizziamo di voler aggiungere al di sotto di questo blocco iniziale che abbiamo posto in alto nella nostra home page una nuova sezione e questa volta abbiamo il bisogno di creare tre colonne all'interno delle quali inserire ad esempio i tre principali servizi che noi offriamo questa è un'ipotesi potrebbero essere due potrebbero essere quattro ipotizziamo che siano tre in questo caso il consiglio è sempre quello di pensare prima di iniziare a cliccare ossia io adesso ho bisogno di tre colonne le tre colonne devo includerle in un contenitore quindi la prima cosa che vado a creare è clicco qua aggiungi blocco e scelgo un container questo rappresenta il mio contenitore perché il contenitore mi consente di impostare alcune caratteristiche comuni a tutta questa sezione all'interno del contenitore aggiungo un nuovo blocco chiamato grid che è quello che abbiamo usato anche sopra per le due colonne questa volta lo clicco ma anziché due ne scelgo tre ed ecco qua che ho le tre colonne ipotizziamo che ora io vado a inserire un titolo quindi clicco qua il più e scelgo la mia headline e questa volta utilizzo un'intestazione non di secondo livello ma di terzo livello un grado più in basso l'allineo l'allineo al centro e ad esempio la chiamo consulenza il mio servizio si chiama così aggiungo un altro blocco più anche questa volta scelgo headline scelgo come tipo il paragrafo e vado a scrivere il testo anche in questo caso lo allineo al centro adesso voglio anche aggiungere un pulsante qua sotto quindi clicco ancora aggiungi blocco scelgo il mio blocco buttons eccolo qua e qua scrivo tutti i dettagli poi dopo dovrò linkarlo alla pagina dedicata ad esempio se io vado qua sul mio sito vedo che tra i servizi ho la pagina della consulenza quindi voglio già linkarlo a questa pagina come faccio torno qua quando sono sul pulsante vedi che qua sotto mi appare incolla l'url oppure digita per cercare quindi da qua io scrivo consulenza e vedi che automaticamente mi viene proposta la pagina consulenza perché io l'ho già creata e pubblicata sul mio sito mi basta cliccare e automaticamente questo pulsante è linkato a quella pagina da qua sempre restando sul pulsante vado nella sezione dell'impostazione di questo blocco pulsante e scelgo i colori quindi voglio che questo pulsante abbia lo sfondo giallo il testo blu e quando ci passo sopra col mouse abbia lo sfondo blu e il testo bianco esattamente così come adesso come abbiamo fatto prima anche in questo caso voglio che sia allineato al centro quindi scelgo il blocco buttons e lo allineo al centro altra modifica che voglio fare è aggiungere un'icona al titolo quindi ora mi basta cliccare qua il blocco del titolo andare qua nelle impostazioni del blocco e scegliere alla voce icona un'icona che voglio applicare posso scegliere tra quelle generali oppure tra le icone social quindi ho a disposizione questi tipi di icone qualora volessi utilizzare un altro tipo di icona ti spiego tra poco come fare in questa fase scegliamo ad esempio quest'icona e qua ho due possibilità la prima è quella di lasciare l'icona qua così come adesso ossia sulla sinistra del titolo ma volendo posso anche scendere qua in basso e dove c'è la voce icon location non scegliere in line come impostazione predefinita ma scegliere above in questo caso l'icona viene posizionata qua sopra e posso variare anche la dimensione dell'icona quindi vedi che puoi anche scegliere un'icona più grande diciamo 1.5 e andiamo a vedere l'anteprima in questo modo ho posizionato l'icona qua sopra il titolo il testo e poi il pulsante proviamo anche il pulsante già che ci siamo cliccando vedi che va la pagina consulenza torniamo alla home non l'abbiamo ancora aggiornato quindi ok vedi che adesso si vede quasi perfetto facciamo ancora delle modifiche andiamo qua su consulenza andiamo in colori e scegliamo che il colore del testo sia blu scuro e anche il colore dell'icona eccolo qua c'è anche la voce icon color anche quello deve essere blu scuro facciamo aggiorna e andiamo a vedere la nostra home page ok supponiamo adesso di voler duplicare questa struttura anche nelle colonne laterali noi potremmo andare ad inserire qua manualmente un blocco headline un altro blocco headline e poi anche il pulsante ma un'operazione più semplice è quella di andare qua cliccare sul titolo dell'intestazione premere il tasto maiuscole e premere il blocco del pulsante in questa maniera vai a selezionare il primo e l'ultimo blocco selezionati questa è un'operazione abbastanza comune per selezionare vai qua sull'icona dei tre pallini scegli copia e poi clicchi qua lato aggiungi blocco clicchi aggiungi il paragrafo devi per forza aggiungere il paragrafo prima di incollare e poi con il mouse tasto destro fa incolla idem anche di qua aggiungi blocco scegli paragrafo se non vuoi usare il mouse puoi usare la classica scorsatoida tastiera il command v se sei su mac o il control v se sei su windows per incollare basta premerlo ed ecco che abbiamo duplicato gli stessi contenuti ora qua puoi andare a modificare il titolo quindi qua lo posso chiamare formazione e qua assistenza e siamo a posto volendo anche qua possiamo andare a linkare questo pulsante alla pagina della formazione che l'abbiamo già creata quindi clicco qua cancello il link che abbiamo copiato e vado a cercare formazione eccolo qua e do invio quindi questa pagina questo pulsante ora è linkato a formazione questo qua è consulenza questo qua al momento lo cancelliamo come link quindi non è linkato a niente ci penseremo in futuro andiamo ad aggiornare e andiamo a vedere l'anteprima per questa lezione ci fermiamo qui e nella prossima proseguiremo la creazione dell'home page e approfondiremo alcuni concetti fondamentali per la creazione delle pagine su wordpress grazie a tutti